Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico, sono le 14.15, siamo in attesa dei vari esponenti di quella che sarà la nuova commissione di fianza da Rai e devo purtroppo dire, e lo dico e ho il cuore Movimento 5 Stelle, agli amici del Movimento è entrato Roberto Fico, tra l'altro è l'uso anche un po' di due telecambi, ci sono poche, io sono qua già dalle 13.20, con un po' di anticipo, però vedo che oggi se la prendono come dagli altri operatori, mostro che alle 14.15, a 15 minuti dall'inizio della commissione, gli operatori sono due, il G1 non si sa, il G3 non si sa, studio aperto non si sa, ma vedremo, le agenzie sicuramente ci sono, però devo sottolineare con estremo rammarico che Roberto Fico non solo ha qualche problema? No, dimmi, visto che detto ancora campa, no ma abbia meno il coraggio di fermarti un attimo, se no guarda che sotto i pantaloni non hai niente, se io porto avanti da 20 anni una battaglia contro la pedofilia, ancora campa, dillo a chi conosci, grazie. È il solito italiano che passa, getta la pietra e se ne va, ma ricordo agli amici ragazzini, senza inquadrarli, stanno dormendo e non voglio ovviamente disturbarli, ma minchino perché… no, mi sono arrabbiato con questo signore perché è passato, ha detto ancora campa e quindi proprio…